incontrare i tuoi occhi è così piacevole tanto da parlare con loro in quei dialoghi vederli sorridere emozionare interrogarsi socchiudere fare l'occhiorino e baciarsi è l'unico modo per vivere l'amore con te quando tutto intorno quel vociare assurdo senza senso prevarica l'armonia di un momento nel frastorno generato non tanto perché così debba essere ma solo procurato come occasione di disturbo nel mostrare la propria presenza e in quell'attimo che gli occhi si disorientano spaventati cercano l'abbraccio e in quello essere inquadrati e protetti e la condivisione di un solo corpo perché in quell'unità i tuoi occhi ed il tuo amore sono dentro di me occhi d'amore questa voce di Mauro Mezzo grazie a tutti grazie a tutti